Alle prime ore dell'alba di venerdì scorso i carabinieri della compagnia di Fano insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Pesare e Urbino con la collaborazione dei militari delle compagnie di Tor Vergata, Anzio e Pomezia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di tre giovani, due dei quali fratelli. Si tratta di un 26enne e due 21enni di Ardea detenuti responsabili in concorso tra loro di rapine e lesioni aggravate ai danni di un cagliese e di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I fatti risalgono al pomeriggio del 10 ottobre scorso nel centro storico di Cagli dove un ragazzo era stato investito da un'auto che si era poi data alla fuga senza prestare soccorso. Il giovane era trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Urbino dove gli erano stati riscontrati politraumi con una prognosi di 30 giorni. Le immediate indagini avviate dai militari sotto la direzione della procura di Urbino hanno permesso di scoprire che in realtà la vittima aveva subito una rapina. Aggredito violentemente con calci e pugni era stato derubato del contante circa 30.000 euro già predisposto per l'acquisto dello stupefacente, nonché dello zaino che conteneva i suoi effetti personali. Inoltre è emersa la particolare pericolosità degli indagati che avevano ben organizzato il piano criminale. Fondamentali per la ricostruzione dei fatti sono state le indagini repentine e meticolose compiute dai militari. Sul luogo dell'incidente avevano trovato delle chiare tracce ematiche e due valigie che in realtà al posto della droga contenevano solo del gesso e rotoli di carta assorbente. Sull'asfalto infine era stato recuperato un tergicristallo di un'auto a cui il giovane si era aggrappato nel vano tentativo di impedire la fuga dei suoi aggressori. I carabinieri quindi, grazie ai lettori Targa System dei comuni di Cagli e Cantiano, hanno individuato la targa del mezzo utilizzato dai tre giovani, una lancia Y intestata ad una donna estranea ai fatti e poi rinvenuta parcheggiata ad Ardea. Del tutto particolari erano le modalità di trasporto dello stupefacente che avveniva a bordo di auto noleggiate, nonché i canali di comunicazione utilizzati come le chat istantanee e criptogrifate per eludere il più possibile i controlli della polizia. Inoltre, durante le perquisizioni nelle case degli arrestati, i militari hanno trovato 350 grammi di hashish, 660 di marijuana, 7.150 euro in contanti e lo zaino asportato alla vittima. Gli indagati ora sono stati condotti nelle case circondariali di Napoli Poggio Reale e Napoli Secondigliano.